volevo inaugurare una nuova rubrica sembra facile ma non è difficile molti volete vedere lavorazioni con le ventose in questo caso in fatto vedere una lavorazione vi farò vedere una lavorazione avanzata che è la riparazione di un montante di un furgone scatolato impossibile da riparare con le leve e quindi riparato unicamente con le ventose sono state utilizzate le ventose di questo diametro quindi 32 mm questa grande è stata utilizzata solo una volta per sbossare è utilizzato questo martello si trova su internet è un martello economico quindi martello con la parte gialla perché più morbida per ribattere è stato usato questo un funzione professionale costa di circa 30 euro prima di questo quindi punto ovviamente lavorata non viene formato così è stata rilavorata la prima di utilizzato questo tipo di funzione economico 8 euro mi trovo meglio con l'altro uno può decidere di utilizzare l'attrezzatura che meglio ritiene di usare che preferisce o per costo o per qualità di lavorazione è stato utilizzato questo martello nelle parti finali di lavorazione a distanza per rifinire quindi per portare in piano sgrossando e per portare in piano rifinendo con questa punta in plastica che non riga la vernicia è stato utilizzato nella colla che ho fatto realizzare appositamente la colla è questa senza questa tipologia di colla quindi con la colla normalmente in commercio tipo questa qui onestamente la lavorazione non sarebbe stata possibile cioè la qualità di di adesione era talmente la potenza di adesione era talmente bassa che non si sarebbe potuto tirare il bollo quindi potenza di adesione bassa questa colla che era comunque in maniera morbida va bene per il bolleggere questa qui tira sempre in maniera morbida quindi non va a rovinare il bollo a creare eccessivamente creste è però ha un potere adesivo molto elevato è stato utilizzato in alcuni punti anche questo foglio regolabile anche temperatura 200 gradi a 15 centimetri dalla lamiera per far arrivare alla mia temperatura di circa di 60 gradi lavorazione sui 30 40 gradi questo per il mio modo di lavorare poi ognuno può scegliere i settaggi che meglio preferisce alcol isopropilico queste lavorazioni sono lavorazioni che consistono nella riparazione di ammaccature quindi non si parla di bolli di grandine ma si parla di ammaccature sono lavorazioni avanzate il tirabolli ripara essenzialmente bolli da grandine Cominiamo Lazio Cominiamo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.